30.000 mi piace e fare un nascondino in uno stadio Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perchè oggi ragazzi siamo con tutti gli elites Oggi ragazzi nascondino per la prima volta sul mio canale quindi mi raccomando solo per questo vi dovete iscrivervi e dobbiamo arrivare al milione di iscritti ragazzi Mi raccomando manca pochissimo, vi sto dicendo a nanno, iscrivitevi Nascondino lo conoscete tutti ragazzi siete pronti a nascondervi nei posti più strani di questa villa Quindi andiamo dentro con la conta chi vuole cominciare? Ragazzi ovviamente se volete acquistare le maglie elites shop in descrizione Chi acquistare una maglietta avrà la possibilità di essere sorteggiato per fare una giornata assieme agli elites quindi approfittatene Ragazzi voi siete pronti? Sì siamo sempre pronti Allora quello quella vabbè questo lampione è la tana quindi Chi siete? Ci siamo Andiamo dai conto Faccio quanto? 40 secondi dai vi do Vai Uno Due Dove ci nascondiamo questa? 15 Eeeh oh piano 20 Un pinno, un pinno, un pinno C'è un salice là ragazzi Là c'è un salice Mi metto là dietro Ok ragazzoli Allora mi sono messo qua dietro che praticamente Fuse sta da questa parte ok Vi mostro anche il mio outfit Direi che percorrere è perfetto Vediamo se mi viete Dove, 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 dove Sono qui di tra un pino Io non so perché da piccolo, da sempre, quando gioca a nascondino mi viene da fare pipì Non so perché Cioè mi piscio sotto Ok allora vedete Sono qua dietro Non mi dovrebbe vedere mai Spero C'è un albero davanti quindi in teoria Ok allora ho sentito già un rumore da, da quelle zone Da quelle zone là Vediamo un po' Non mi pare di vedere che a mente è finito Ah no stati lo vedo raga guardate, guardate, guardate Poi mi metto su questo spot Che nel caso lui venisse da qua Comunque riesco Eh ho riuscito, dobbiamo smuovere un po' Oh ho sentito un movimento strano Andrea non lo vedo ancora Questo nascondiglio è un po' Un po' al limite Non c'è nessuno Ma come Ma come si sono nascosti questi Basta che mi sporco un po' E mi ha fatto Mi ha fatto un round incredibile Non lo riesco a trovare No Sangue Vito andrea Vito andrea raga Tana per Mirko Allora mo mi faccio un po' di giro della casa Che ce la fa? Posso stare fermi? Ok In verità potrei nascondermi anche tipo dentro questi vasi mega giganti Che ci sto benissimo Cioè No dai spero che non abbia visto mai Per farvi capire Ci potrei stare benissimo qua dentro E raga mi faccio il giro della casa Che devo fa? È andato di là è andato di là Mo sicuramente ve lo giuro Mo si faranno il giro da Per tutta la casa E mi farà Qualcun altro mi farà Tana Tati sta andando a tanarsi E che cacchio Verò Tati ne mi ha fatto Sì c'è la Fius Voglio è incredibile Mi sono liberato Cavolo Tati si è salvato Mi ha anticipato Ma dove cacchio vi siete nascosti? Cambiamo Ma raga è stato un azzardo ma E sono pure grosso eh Non dico dov'ero Manchiamo io Henry E Antonio Che non vedo Nessuno dei treni Se va Di là Me lo posso fare Antonio pure mi ha fatta Ma mi faccio il giro dall'altra volta Tava per me Ma io verò Godoo Ok Andrea sta facendo il giro Ok questo è il momento di spostarsi Andre cerca bene Ho capito Guardi ma è talmente in mezzo Che non riesco a trovare nessuno È difficile Andre è troppo grande Sta film Oh No No Ti è smontata Oh Harry Fai salvi tutti Non l'avevo visto Questo è arrivato Sono l'ultimo Ora se c'ho culo Lui passa per di qua Non mi vede E io esco Porca miseria Harry fai libera tutti Ti prego Omar Dai Pensavo di batterlo sul tempo Invece Devo allenarmi Anto C'ho paura di Di Harry Capica all'improvviso Scatta da qualche parte Oh Sento una cosa Niente Oh ma dove si è nascosto questo Sicuro Vabbiamo vincendo Harry Vabbè ma per la bellezza del video Si cambia chi conta Vero No no Guardate raga La ciabatta No 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 Sua madre veramente Punta Ragazzi è stato un change Per la mia telecamera Ci sarà un change Anche per chi andrà a contare Perché E' vero che eri ha fatto Libera tutti Però Avvio Un po' a seconda Sembi Conta Omar In questo caso Anto è esatto Adesso aspettiamo Mirko Molta calma Omar Allora conto ragazzuoli Vai vai Omar Non guardare però Ho già stato un dato Ma come ho già stato un dato 15 16 17 18 19 Allora mi farò scavare Sicuramente 6 27 Ho fido di nuovo su un albero 31 No 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 38 39 40 Sono qui Mi tra un salice piangente Speriamo non mi faccia piangere Stai fin tostoso Allora ragazzuoli Dov'è che siete andati Ma c'è Mirko Ma chi è quella testa Dai ma chi sei Ma sei un pagliato Ma tu tanti pure Ma lì c'è un pagliato enorme Salve me però Sento delle voci Ha tannato già qualcuno Ma chi è Andre Ma che è Dai E andiamo Trotterellando A tannare Più Goosegamer Tanna per Andrea Dai ragazzi Ma questo subito mi ha visto Eh ma sei venuto fuori Come un sorcio Dal canale Con la testa Allora Ma tu sei un sorcio Più è celuto Tatti ma esci col ginocchio Ma che cos'è Ma ci ho provato Ma cos'è Il circo Che cosa posso fare E andiamo Trottere Lando A tannare Tatino 23 Tanna per Tatti Ah vabbè Ho dovuto levarmi dall'altro E mentre mi sgammava subito Cioè mi prendeva in botta C'è anche Harry Allora facciamo il giro della casa Adesso Oh sta venendo Sta venendo Sta venendo Sta venendo Sta venendo qui Barry 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 Insomma Tanna Ferrerri Mister salva tutti Mister Sono rimasto solo io Cavolo Devo salvare tutti Mi ho sgammato Mi ho sgammato Mi ho sgammato Vai Antonio Beh Antò Che raccogli dai funghi E Antò Che fai lì dietro Antonio Fusco Lo prendiamo Che va Che va Antò corri Antò corri Tanna per Antonio Dai Omar Tutti tranne Mirko Tutti tranne Mirko Quindi va a contare Mirko No Ma con me Scusa sta cosa Mirko ma raccomando Fine 40 40 Se risparmi qualche secondo in più Non ci va piacere Mirko falo per noi Vai uno Oh già già Due Vai 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 Tre Facciamo coppia Ok Casino lo placa E l'altro lo distrae L'altro 13 14 15 16 17 Alec Musica 18 19 20 Ma è già 20 questo Ormai 21 22 23 24 5 6 7 8 8 30 31 Ma cazzo conta questo Arrivo Ma tu Ma tu Tu Avvisa se vieni qua Io mi faccio il giro Gioco di squadra con Andrea L'ho avviso Così lui fa il giro della casa E si va a salvare Magari un salvi tutti Eh io mi rimetto il vero prima Ma che cazzo devo fare Allora ho sentito qualcuno Che passo che andava di qua Ah ho visto la testa Ho visto la testa Da Tatino Tatino Ascondendo Con la testa così Tana e Tatino Che cazzo Tatino cosa Andato Mannaggia Tatino è andato ragazzi Che sta facendo Sta Stai intorno al palo È a box In un palo però Anzi sta proprio muovendo 4 Ne sono Che stanno Se faccio piano piano così Piano piano No cazzo Aspetta Antonio Porca Dietro la macchina Dana Ma hai visto Aglio È troppo mascamato Che bello che io Da qui posso Vederlo Ma lui è dolore È bellissima Sta cosa Mirko è sempre lì Non si muove Sto bastardo Ho visto un'ombra Ho visto un'ombra Calma Ho visto un'ombra Che veniva da là Corri 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 Oddio Lo scatto della vita Ragazzoni Sì Andri 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 Questo round sarà epico Aspetto che lui viene qua E me lo faccio in velocità Difficile Qui stanno facendo sudare Dove andare un po' più là Quindi devo andare un po' più di qua Da quest'altro lato Dove andare Vai 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 Era troppo vicino Era troppo vicino Minchia Ciao Salva a tutti Salva a tutti Vamo Col cazzo Mamma mia ragazzi Che salvataggio Tatino sei pronto a contare Sono pronto 40 secondi Via uno Lo cazzo mi nascondo Ma io mi metto qua dietro 40 Ma che cazzo è Allora io non ci vedo più Ma chi è quello che si è sbriato là sotto Ma Harry 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 Sì Harry Ciao Tana per Harry Ci ho provato Pensavo che non si vedesse in linea d'aria Invece mi ha sgamato Non sta venendo di qua Non supera Non supera Non supera Stava per me Non supera Ma che è sassito Ma perché ti ha beccato a te Ma difatti Mi era sembrato di vedere una cosa strana Però ho detto Uuu Chi è quello laggiù Laggiù dove? Che culo Che culo Ma non ho visto Sì sì Mi hai detto Che ha quello? Dai che sono rimasti in mezzo Mister salva tutti Vai salva tutti E fai perdere lo juventino Devo salvare tutti Andiamo Che c'è? Che c'è Tati? Vuoi mangiare? Oppure Antonio si tala per tutti Mi dispiace Tati Tutti E finisce così Let's go E si vince Quindi ragazzi questo video del nascondimento finisce qui Da Yeliz è tutto Ciao Se volete acquistare le magliette Yeliz ragazzi c'è lo shop online in descrizione Uno di voi sarà sorteggiato per fare una giornata insieme a Yeliz in questa villa Se acquisterete questa maglia E che dire lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale Noi ci ricordiamo un prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao